Nella serata di sabato sono volati nuovamente stracci tra Julia Bruschi e Jessica Morlacchi, ormai acerrime nemiche nella casa del grande fratello. L'ex cantante dei Gazzosa, parlando della coinquilina di origini cubane, ha detto, possiamo avere momenti tranquilli, ma poi lei si riaccende. Dal canto suo, Julia ha replicato, nella vita ho incassato così tanto che le provocazioni non mi toccano. Vedo una donna intelligente e forte che si perde nel nulla. Poi, rivolgendosi a Jessica, ha detto, potresti dare molto di più. L'amor Lacchi, però, non ha esitato a controbattere. Sei una persona che non è giusta per il gruppo. Da questo momento in poi la situazione si è fatta incandescente. Sono estremamente educata, lo sguardo non lo abbasso nemmeno con mio madre, ma è l'educazione non mi manca mai, dice ancora GFina Toscana. Non si tollerano a pelle, lo dobbiamo accettare, commenta Eleonora Cecere. Chi siamo noi per forzare un'amicizia? Che ognuno faccia il suo percorso, afferma invece Pamela Petrarolo chiudendo la discussione.